Musica Hi guys, fala galera, hola chicos, ciao ragazzi Oggi siamo qui su Black Ops 3 per un supply drops C'è un mega pack opening, non so come chiamarlo su Black Ops Ragazzi il primo nel canale Fatemi sapere se vi piace ragazzi Come già sapete iscrivetevi se non siete ancora iscritti Condividete soprattutto il canale Poi se volete, se vi piace il video Ovviamente lasciate un like Allora raga, come ben sapete sono uscite nuove armi Il nuovo aggiornamento, già due giorni, due tre giorni E sono uscite quattro armi nuove Che sono l'L4 Siege Che sarebbe il lancia razzi Con quattro razzi diciamo di capienza Ecco, si possono sparare quattro razzi C'è l'FFR, sarebbe il FAMAS di Black Ops 1 Se non vorrei dire cavolate Che è un fucile d'assalto in Black Ops 3 E che è un fucile d'assalto con maggior rate Ragazzi è quasi una mitraglietta È fenomenale Però la precisione Diciamo non è Ho visto alcuni gameplay Non è il massimo Ma inserendo magari il calcio Secondo me diventa un'arma devastante Poi abbiamo lo Slash and Burn Che sarebbe un Accettaro Come vedete nelle foto Un'arma corpo al corpo Diciamo come ce ne sono le altre E poi c'è un'altra arma Che sarebbe questa specie di mazza Scavezzacolo Mazza che dovrebbe spaccare le teste Quindi raga Speriamo di trovare una di queste armi In questo pack opening Purtroppo io non avendo il Season Pass Non ho quella Diciamo Quei 10 Bundle gratis Quella Quella mazzetta di armi Quella 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 Dove si può trovare almeno un'arma sicura Si possono ottenere Facendo 75 vittorie Si può ottenere il bundle Diciamo E inoltre Hanno aggiunto anche la possibilità Oltre a questo Di aggiungere una sfida settimanale Quindi raga Molto interessante Questa novità Speriamo che sia divertente Ora andiamo subito Ad aprire il primo pack opening Raga 685 cripto chiavi Più poi quelle che Accumuleremo E quello che brucieremo Secondo me Spero Spero bene Raga Secondo me Faremo Un bel pack opening Speriamo bene Cerchiamo Di trovare qualche bella arma Dai Ah In questo weekend ci sono Un per due Dei cripto chiavi Quindi Alla grande Raga Ci nerderò ancora un po' E andremo a vedere Andiamo ad aprire il primo Il primo cassone Vediamo un po' E ovviamente troviamo Il legno Vediamo un po' Raga Spero Io ho trovato solo La chiave di Come ragazzi si chiama Il piede di porco E ho trovato Il tirapugni Questo è il massimo Che ho trovato Incisione mimetica faro Cazzo Quindi raga Spero di essere Abbastanza fortunato Almeno una volta Almeno così live Registrando Niente Vediamo un po' Cerchiamo anche di accumulare Cripto chiavi Inferno Che devo fare Che devo fare Che pecchetto di merda Dai Filuce dai No Petto Arido E campo Non mi serve A un'emerita Minchia Un epico Neanche qui un epico Raga niente Gotico Bello però Bello il tema corpo Ma io voglio le armi Ecco sulla destra C'è un epico ragazzi Dai Dai No Martoriato Immetica Immetica Niente raga Andiamo avanti Dovremmo avere Almeno un'altra Quindicina Ghiaccio Per l'SVG Porca Eva Raga Vediamo un po' Ora Dai Dai Paladino E paladino Presidente corpo e testa Il paladino è il profet Non è male raga Sembra bellino C'è un epico sulla destra Però vedo l'Argus Sarà perché Mi metterà l'Argus Neanche Mi ha trollato Che pacchetto di merda Vampiro Poplock Croce rosso Ma la croce rossa ci vado io tra poco Se non mi fa scirelli c'è un epico Vediamo un po' Niente raga Mi trolla Mi trolla C'è sulla destra forse un epico Però vedo una faccia di qualcuno Eh sì È il fenomeno da baraccone Tema testa di Seraph Però cioè Io voglio le armi Voglio le Cazzo Grapsus Grapsus Cos'è? Un altro tema corpo Forse sono nuovi questi eh Che non l'ho mai visti Grapsus Vabbè qui sarà uno di merda Sì Non c'è niente Andiamo avanti Verde blasone Dai Vediamo ora Dai 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 Ingano mi metti Mi pare che già ce l'ho Poi tra l'altro Inferno Night È inferno Uffa Quella cos'è? Quella cos'è? Incisione Cavolo Perché? 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 Danmi Mosse da pollaio Rispetto Sì sì Facciamo Dai Bah Bah Ho accumulato tutte queste cripte Per cosa? Per quella? Quella cos'è? Niente Bandito Affanculo Regale Niente scuse MVP ragazzi MVP Almeno questa Un'arma corpo al corpo È un'arma corpo al corpo Almeno un'arma ragazzi Va bene così Una bella arma corpo al corpo Questa Mi piace tantissimo Quando si Diciamo si preme il bottone La ricarica Il pulsante la ricarica E fa quella Diciamo si sente il pubblico Esultare Stupenda Bene così raga Almeno una l'abbiamo trovata Io ora vorrei La nuova arma So che è quasi impossibile Quella mitraglietta Però ci spero Ci spero Ci spero col cuore Vediamo un po' Trasgressione per la mimetica RKC No ragazzi No ragazzi ancora niente Abbiamo ancora 150 Criptochiavi Quindi altri 5 Almeno 8 Ti spezzo Ti spezzo Bandito Bellissimo Ah qui la testa è bianca Cazzo quanto è bello Voglio questa cazzo di arma Abbiamo qualche testa lì Eccola qua Druido Che cazzo è verde? Tema testa nomad Questo sarà pure nuovo Perché non l'ho mai visto Però voglio le dannate armi Vabbè ora non c'è nessun epico Sicuro è uscito adesso Guardate lì Legno Contrasta Che cazzo di E andremo a bruciare Redegomlin Solo temi testa e temi corpo Solo questo Vabbè Abbiamo 34 Ne abbiamo ancora uno da aprire Poi andiamo a bruciare i duplicati Vediamo quanto Quanti ne riusciamo da Ah da parare Non sono tantissimi In realtà Tutti gli epici Erano tutti epici nuovi Quindi abbiamo 46 criptochiavi Vediamo un po' Probabilmente riusciremo ad aprire Forse uno da 32 A 2 da 10 Vediamo un po' Niente epico raga Neanche qui Motivazione Verde No niente Qualche colpo di Di sedere Qua No niente Niente raga Bruciamo Tre comuni Quindi abbiamo l'ultimo Cassone da aprire Dopodiché Comincerò di nuovo a nerdare E vi porterò anche un bel gameplay Con la mazzata baseball Con la BMP No MVP Cordis Die Verde E puntata doppia Che se lo può ottenere il gioco Perché non lo userò mai E vabbè raga Se vi è piaciuto questo Andiamo a vedere un attimo l'arma Andiamo a vedere un attimo l'arma Prima di lasciarvi No E come vedete Il coltello Il tirapugni Mi ha usato Questo coltello Devo cominciarlo a fare Il tirapugni Il piede di porco Giusto un po' L'ho usato E la MVP Che il viaggio Con forza E ci prenderà Nel volo Raga è bellissimo Questa 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 qui Non scherzo È stupenda È stupenda perché È troppo divertente Poi Fare le Mimetiche È bellissimo Perché Veramente è bello Raga Vi porterò sicuramente Qualche gameplay E vabbè raga Se vi è piaciuto il video Mi raccomando Lasciate un like Fatela sapere ai vostri amici Sapete Io porto sia GTA Che Call of Duty Spero vi piaccia Ci vediamo sicuramente Al prossimo video Falou